ciao a tutti oggi vi voglio parlare di questi due prodotti che ho avuto la possibilità di testare come ambasciatrice con trnd sono arrivati due giorni fa infatti l'ho iniziato già questo sono una l'acqua micellare e l'altro l'olio illuminante levigante alla lavanda questo qui ha un buon profumo e devo dire anche un buon inci essendo che si tratta della garnier adesso ve lo leggo se lo faccio vedere ecco è la prima volta che vedo specificato così ogni ingrediente in tutti i prodotti che ho provato e mi sembra una cosa molto positiva questo è anche certificato ecocert come potete leggere provo a farvi leggere meglio quello che c'è scritto qui come vi dicevo il profumo è ottimo ti lascia una sensazione di fresco sulla pelle questo invece è l'olio illuminante anche questo è certificato ecocert per tutti i tipi di pelle qua è quello che scrive diciamo come si usa quello che hanno utilizzato e qua ci sono scritti gli ingredienti qua c'è scritto anche che è un'efficacia soltanto 7 per cento del donna questa è la bottiglietta ora ve la faccio vedere essendo che la uso da due giorni non è che posso dire è ottimo è buono ma comunque non ha anche problemi di rughe quindi non so quanto posso essere attraverso questa è la boccetta ne basta solo per la fronte una goccia è molto denso il profumo è buono è di lavanda giustamente poi c'è chi piace c'è chi non piace non ho idea di quanto costano perché non sono andata a curiosare nei negozi a vedere quindi purtroppo questa informazione non ve la so dare per ora ve lo consiglio diciamo voi li avete provati fatemelo sapere nei commenti ciao buona serata ciao